Musica 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 Hi allievi coi sempre benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qua su Mario Sport Mix Un momento in compagnia di mio padre Ciao e si sente in maniera distorta ok va bene bene siamo su Mario Sport Mix perché abbiamo raggiunto di nuovo i 25 mila mi piace abbiamo raggiunti 25 milioni di miliardi e quindi vi chiedo già da subito di superarne altre 25 per continuare questa serie di Mario Sport Mix ora è una cosa che sinceramente una cosa che ho in mente e ancora non dico e ancora non dico però la prima cosa che vi voglio dire è che sono veramente felici che abbiamo raggiunto i 500 iscritti oggi sono molto euforica perché il gelato vai esatto quindi i zuccheri fanno esatto ovviamente faremo cioè farò uno speciale molto eterno e ne avrò in mente di fare oltre per questi 500 iscritti oltre al video speciale che vorrò che farò vorrei fare anche una cosa un'altra cosa speciale però diciamo che comunque vi mostrerò però cominciamo allora io ho in mente di fare una cosa molto bella ossia Mario Sport Mix un torneo dove ci potrebbero capitare palla a volo o pallacanestro quindi direi di provarlo due giocatori anche se io non li ho provati tutti esatto però facciamo questa zanzo dai è anche bello iniziamo ovviamente poi vediamo le cose perché ad esempio papà non ha ne sa provato ok sicuro non so se non hai provato anche qualcos'altro ma ok sicuramente non l'hai provato no comunque vediamo questo bellissimo ok noi siamo i secondi vediamo secondo te chi vince tra quello giallo e browser tra Yoshi? secondo me Yoshi? secondo me browser? facciamo queste scommette no ho perso vabbè comunque ora ci siamo noi la nostra squadra vediamo che cosa ci danno? io ti prego no 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 che non ho che palla a volo si almeno è la cosa che comunque anche tu sei meglio se fare meglio ok in pratica questo è una cosa speciale intanto che fa la presentazione se noi diciamo facciamo punto su ogni cosino vedete? e ti prego e bingo 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 ma sulle immagini dove? esatto c'è presente quel coso browser al centro? eh le due immagini eh se facciamo a un campo e andate? eh se tiriamo a ogni coso a ogni punto di questi da più punti vuoi se facciamo il bingo così male quindi vuoi no prendila ok dai 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 la presa è una cosa incredibile oddio papà non la stavi prendendo e tu ti metti un colpo? eh lo so però succede vai vai c'è la nostra speciale super forte no la presa con fugo come fate a prenderla? cavolo anche perché questi devi sapere papà che sono esperti eh ah ok quindi wow quindi non è una cosa super travolata dai e vai è rimasto fregata anche i funghi perché c'è quel coso là lui? perché noi ci buttiamo per prenderla ma alcuni nazionali hanno una scusa quindi scusa adesso dobbiamo andare ah quel coso che si dice se riusciamo facciamo ah oh ma se riusciamo facciamo tutti i punti oddio no ma io mi sono puntata no non ci voglio prendere no sto scimbalzero ma dai non credo bene comunque con 1 e 2 puoi fare la nostra speciale? si quando muoio bombito ok boom parca miseria vai cavolo aspetta oh ho fatto un muro ma non ci sono riuscita del tutto ho tirato un missile terraria oh no oh sto cercando di fare muro ma non ci riesce nooo oh no oh ho salvato una palla no a salvato pure se non faccio punto non mi importa ho salvato la palla che è venuto? a e b infatti quello di solito è come un trucchetto me lo tengo sempre per i momenti più come questi che magari ho paura e lo tengo così in modo che e beh eh ecco 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 eh caha oh no ok ecco ecco a con quello ho è veramente una cosa difficilissima però mi piace dai non stiamo facendo punti facili in questo caso veramente eccolo vai stai sempre attivo boom hai fatto uno 2 a 2 si comunque è veramente difficile questa partita prendi ma anche tu almeno puoi tirare no no tranquillo vabbè se lo comunque tu puoi schiacciare direttamente se ti alzi come hai fatto prima sei presente ci devo provare ma ce la risete no vabbè infatti però ormai hai un istinto stavo dietro te eh lo so ormai c'è ormai un istinto capito perché cioè quando gioco no perché non è arrivata è rimasto un po' cavolo di nuovo salta eh eh così eh ho saltato ma non ho saltato ma non ha saltato infatti anche io provo di saltare ma sinceramente non mi ha saltato eh vai muro perfetto ogni tanto faccio qualche muro almeno se vedo che la cosa sta diventando troppo lunga faccio il muro attenzione alla botta wow questo che è tirato che è tirato l'ha tirato una scheggia l'ha fatto prendi wow non so come fai a prenderla da lontano però ok vedi non so perché la prendi da subito orca miseria il funghetto no ma vedete che tu stai eh forca miseria ma quelle cosa sono di lunga no oh è più salti più eh no oddio che capace l'hai presa tu no alla fine non è fatto punto perché è morta no vabbè abbiamo fatto tutte queste cose inutilmente alla fine che sfiga ho adesso ci metto io what no puoi fare la vostra speciale no ma guarda quel funghetto ma è la vostra speciale dai dai ogni due ok intanto mi stavo preparando a tirare io però no te l'ha fermata ma guarda cavolo alla fine ce l'ha fatta eh attenda eh mamma mia alla fine ce l'ha fatta ma è una bomba eh oh guarda guarda questo che vuole fare il muro ah no non ci riesco mai quando stavo troppo lontano guarda non ci riesco oh 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 non so come l'hai salvata non so come l'ho preso cioè questa partita sta prendendo una piegata sì non troppo brutta però spesso non è che riusciamo facilmente lascia a me sì vai tira la bomba oh oh mannaggia oh quel tot ce la fa sempre mi ha rotto le scatole oh mamma mia pure noi adesso lo facciamo prima il tema apriamo i dei vetti oh bene se vede che sta arrivando oh ma incredibile oh è appunto se vede che sta arrivando non riesco ah è rimasto no no è giusto ormai sanno dove ti chiamo non so no oh mannaggia è super difficile sono veramente esperti sti tizzi oh ti è no da pregare a te mannaggia le banane cavolo non è possibile oh mamma mia oh convinto che non la prendevi tu ecco perché non faccio nulla e basta sei titolo di me ok se vi stare sempre il titolo di me perché se no finisce male ok ci sto provando ma ok se no oh ok no mi è passata sotto ha fatto anche il bingo la sfiderina ok stavolta sapeva che avrei che avrei fatto muro secondo me se l'avevi intuito perché l'avevo fatto così tardi volte in 2 secondi fai fai la cosa dura e la volta ok 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 tira dove non ci sono si arrivano cavolo ca miseria ho fatto del tutto cavolo ma già le banane vedi oh e più salto e più e no come ho fatto a prendermi papà dobbiamo vincere sali e ormai non credo che ce la fai questa partita ok dobbiamo mettercela tutta e lo so siamo sette al tre l'ha preso uguale oh incredibile papà papà oddio che paura oh l'ho presa no papà che cosa hai fatto non lo so ti stai spiatato ma quanto stai andata stai andata ma io 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 mi dico che adesso fai ora basta ci provo io anche se non ci riesco ci provo io ci provo io papà papà dai poi ma nella vita oh ho tirato sotto rete apposta ti voglio pia ma perché lui c'è il biglietto e noi no perché lui ha tipo una cosa speciale e non va bene lo so oh mamma mia se tiriamo a quella parte più alta vedi a quello blu se tiriamo a quella parte beh abbiamo fatto il bimbo e possiamo arrivare a qualche cosa di più vai prova anche tu a fare eh infatti ma se ti sembra mal di tu ok allora io sto ah già ma anche sto top ci si mette basta chi è sta roba e no e beh ovviamente colpisce abbiamo perso sanno 11 papà non ce la faremo mai e per fortuna che abbiamo detto che questa era facile no tu hai messo che hai messo tu eh appunto diciamo che per fortuna il pallacolo era quello più facile eh mi immagino che sarei più uscito Oki Oki che non ho mai fatto appunto con le carente non so nemmeno si che lascia quali sono oh mamma mia è tirata una bomba che ho tirato volevo vedere se riusciva a fermare questa era veramente una cosa inaccettabile cavolo una bomba del genere uo la sottorete sottorete cosa cdm oh no guarda io dov'ero non si dire ma la cosa finita guarda come mi ha dato il puzzle eh infatti mi ha dato la specie completa come c'è io muori prendila oh non credo che l'avessi presa perchè gli dovevano quella rialzare però sottorete eh cioè è troppo lenta infatti impossibile così con Pitch ah dovremmo mandiare cosa? personaggi no? boh io ho sempre preso Pitch e mi favo comoda così però mi trovo anche comoda con Dave c'è anche perchè la sua mossa è abbastanza comoda siamo troppo lontani secondo me in che senso? pensato loro vedi giocano lo stesso pure sottorete loro vedi com'è io non lo so anche loro tirano comunque lontano non c'è niente da fare ma non riesciamo a fare vedi puri punti sono difficili da fare si non lo so veloce sono molto veloce via allora facciamo così tu stami sempre dietro in qualsiasi circostanza ok io quando posso faccio eh è come è stato veramente veloce che non infatti non so perchè non la prendi cioè non la prendi va stai facendo un colpo sai tu no la vesti presa cavolo eh l'istinto mi spiace basta basta credo che l'avrebbe presa oh prendi la prendita che io ho sbagliato di grosso dove riesco a far prova tu adesso a fare il muro ogni parte che vogliamo fare il muro ah già ma io lo faccio oh ok prova a fare il muro eh ma 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 sei fatto non l'ho visto sono sincera non l'ho visto non l'ho visto ragazzi ragazzi cambio abbiamo ancora un altro set se riusciamo a fare l'altro set potremo fare un altro set il terzo set per poter recuperare forse vincere la partita però visto che insomma questo primo set si è veramente allungato tantissimo e non vogliamo stancarvi magari poi sembra noioso quindi quando raggiungeremo i 25 euro di piace faremo il secondo set faremo il secondo set ma comunque io direi che possiamo fermarci con questo episodio lasciate un mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti ciao